3-4 minuti, stavo palese fin dall'inizio, è chiaro che la differenza fra noi e loro esiste e quindi i meriti degli avversari non vanno sicuramente sottovalutati, è altrettanto chiaro che la differenza che esiste fra noi e loro non è quella che abbiamo visto stasera, quindi non dobbiamo sottovalutare neanche i nostri demeriti, che stasera trovano secondo me moltissimi. Ma si è spiegato il perché di questo momento? La nostra è una squadra che a livello d'alte e bassi ha sempre sofferto di questi partiti di blackout dopo una serie di partite positive, te l'ho detto però mi dà fastidio il modo in cui perdi, poi dall'Inter puoi perdere, loro hanno confermato di essere una squadra di grande livello, di grande qualità, centrompo forse per i più forti d'Europa, però da qui a quello che ho visto in campo c'è differenza, quindi diamo una parte dei meriti all'Inter, però prendiamoci i nostri demeriti che ci sono e sono piuttosto evidenti.